impotenza contro il linguaggio pedagogico delle cose da lettere luterane neante come fare un film costringe a guardare le cose lo sguardo di un letterato su un paesaggio campestre urbano può escludere un'infinità di cose ritagliando da loro insieme solo quelle che emozionano o servono lo sguardo di un regista su quello stesso paesaggio non può invece non prendere coscienza quasi elencandole di tutte le cose che vi si trovano infatti mentre in un letterato le cose sono destinate a divenire parole cioè simboli nell'espressione di un regista le cose restano cose i segni del sistema verbale sono dunque simbolici e convenzionali mentre i segni del sistema cinematografico sono appunto le cose stesse nella loro materialità e nella loro realtà esse divengono è vero segni ma sono i segni per così dire viventi di se stesse tutto ciò fa parte di una scienza la semiologia che tu genna riello non puoi non conoscere almeno di nome e nella sua significazione almeno divulgativa se vuoi seguire i miei discorsi specie questo sul linguaggio primo delle cose e sulla loro conseguente prevaricazione pedagogica dunque se fossi andato nello Yemen in quanto letterato sarai tornato con un'idea dello Yemen completamente diversa da quella che ho essendoci andato in quanto regista non so quale delle due sia la più vera in quanto letterato sarei tornato con l'idea esaltante e statica di un paese cristallizzato in una situazione storica medioevale con alte strette case rosse lavorate di fregi bianchi come una rozzorrificeria ammassate in mezzo a un deserto fumigante e così limpido da scalfire la cornea e qua e là vallette con villaggi che ripetono esattamente la forma architettonica della città tra sparuti orti a terrazze di grano di orzo di piccole viti in quanto regista ho visto invece in mezzo a tutto questo la presenza espressiva orribile della modernità una lebbra di pali della luce piantati caoticamente casupole di cemento e bandone costituita senza senso là dove un tempo c'erano le mura della città edifici pubblici in stile novecento arabo spaventoso eccetera e naturalmente ai miei occhi hanno dovuto posarsi anche su altre cose più piccole o addirittura infime oggetti di plastica scatolame scarpe e manufatti di cotone miserabili pere in scatola provenienti dalla cina radioline ho visto insomma la coesistenza di due mondi semanticamente diversi uniti in un solo e babelico sistema espressivo naturalmente il contingente moderno di tale sistema linguistico a me si presentava come abberrante e degradante lo era oggettivamente a dire il vero appunto perché era miserabile dichiarava senza riservi o ritegni il suo sfacciato fine speculativo lo yemen non è ancora che un piccolo anzi infimo mercato per le industrie occidentali quindi è disprezzato e oggettivamente ridicolizzato il suo sfaccello pare naturale il fatto che esso richiede una biura da parte degli iemeniti pare agli speculatori tedeschi e italiani qualcosa di perfettamente naturale gli iemeniti devono essere del tutto consenzienti a proposito del loro genocidio culturale e fisico anche se non necessariamente mortale come nei lager ma torniamo alle cose il linguaggio delle cose nuove che nello yemen e nella mia infanzia è un balbettio per te genariello è divenuto un discorso articolato logico e normale anche se qualcosa ancora te ne separa essendo tu napoletano non voglio coinvolgerti nel mio peccato estetico la muta dei moralisti ti stia lontana con quelle sue accuse che le salgono su dai testicoli del resto repellenti non certo come i tuoi di giovinetto o i miei che non li confondo con lo spirito prevaricatore volgare della legge il mio estetismo è inscindibile dalla mia cultura perché mancare la mia cultura di un suo elemento anche se spurio magari e superfluo esso completa un tutto e non ho scrupoli a dirlo perché proprio in questi ultimi anni mi sono convinto che la povertà e la retratezza non sono affatto il male peggiore su questo c'eravamo tutti sbagliati le cose moderne introdotte dal capitalismo nello yemen oltre ad aver reso gli yemeniti fisicamente dei pagliacci le hanno resi anche molto più infelici liman il re cacciato era orrendo ma il consumismo micragnoso che l'ha sostituito non lo è da meno ciò mi dà il diritto a non vergognarmi del mio sentimento del bello un uomo di cultura caro gennariello non può essere che estremamente anticipato estremamente ritardato o magari tutte e due le cose insieme come è il mio caso quindi è lui che va ascoltato perché nella sua attualità nel suo farsi immediato cioè nel suo presente la realtà non possiede che il linguaggio delle cose e non può essere che vissuta il punto è questo la mia cultura coi suoi estetismi mi pone in un atteggiamento critico rispetto alle cose moderne intese come segni linguistici la tua cultura invece ti fa accettare quelle cose moderne come naturali e ascoltare il loro insegnamento come assoluto io potrò cercare di scalfire almeno di mettere in dubbio ciò che ti insegnano genitori maestri televisioni giornali e soprattutto ragazzi tuoi coetanei ma sono assolutamente impotente contro ciò che ti hanno insegnato e ti insegnano le cose il loro linguaggio è inarticolato è assolutamente rigido dunque inarticolato e rigido è lo spirito del tuo apprendimento e delle opinioni non verbali che in te attraverso quell'apprendimento si sono formate su questo siamo due estranei che nulla può avvicinare siamo due estranei lo dicono le tazze da te non mi stancherò mai di ripetertelo io nel parlarti potrò forse avere la forza di dimenticare o di voler dimenticare ciò che mi è stato insegnato con le parole ma non potrò mai dimenticare ciò che mi è stato insegnato con le cose quindi nell'ambito del linguaggio delle cose è un vero abisso che ci divide ossia uno dei più profondi salti di generazione che la storia ricordi ciò che le cose con loro linguaggio hanno insegnato a me è assolutamente diverso da ciò che le cose con loro linguaggio hanno insegnato a te non è cambiato però il linguaggio delle cose caro gennariello quelle che sono cambiate sono le cose stesse e sono cambiate in modo radicale tu mi dirai le cose sempre cambiano omuno cagna è vero il mondo è eterni inesauribili cambiamenti ogni qualche millennio però succede la fine del mondo e allora il cambiamento è appunto totale ed è una fine del mondo che è accaduta tra me cinquantenne e te quindicenne la mia figura di pedagogo è dunque messa irrimediabilmente in crisi non si può insegnare se nel tempo stesso non si apprende ora io non posso insegnare a te le cose che mi hanno educato e tu non puoi insegnare a me le cose che ti stanno educando cioè che stai vivendo non ce le possiamo insegnare a vicenda per la semplice ragione che la natura non si è limitata a cambiare alcune sue qualità è cambiata radicalmente nella sua totalità osserviamo un fenomeno che sembra irrilevante sono tornati da qualche tempo di moda gli oggetti degli anni 30 e 40 e io sto girando un film ambientato precisamente nel 44 sono quindi costretto ogni giorno con quello sguardo impietoso ed elencatorio che il cinema richiede osservare gli oggetti che filmo in questi giorni sto girando una scena in cui delle signorine borghesi prendono il tè ho osservato dunque tra gli altri oggetti delle tazzine da tè il mio scenografo dante ferretti aveva fatto le cose in grande aveva procurato per la scena un servizio molto prezioso erano tazzine color giallo uovo chiaro con delle macchie a rilievo bianche legate all'universo della Bauhaus e dei bunker e se erano angosciose non potevo guardarla senza provare una fitta al cuore seguita da un profondo malessere tuttavia quelle tazzine avevano in sé una misteriosa qualità condivisa del resto dalla mobilia dai tappeti dai vestiti e dai cappellini delle signorine dalle superlettili dalle stesse carte da parati questa misteriosa qualità non dava però dolore non causava un violento regresso che poi la notte ho sognato in epoche anteriori e atroci d'avanzi gioia la loro misteriosa qualità era quella dell'artigianato fino al 50 fino ai primi anni 60 è stato così le cose erano ancora cose fatte e confezionate da mani umane pazienti mani antiche di falegnami di sarti di tappezzieri di maiolicari ed erano cose con una destinazione umana cioè personale poi l'artigianato il suo spirito è finito di colpo proprio mentre hai cominciato a vivere tu non c'è soluzione di continuità ormai ai miei occhi tra quelle tazzine e un vasetto il salto tra il mondo consumistico e il mondo paleo industriale è ancora più profondo e totale che il salto tra il mondo paleo industriale e il mondo pre industriale quest'ultimo infatti è stato superato definitivamente abolito distrutto fino ad oggi è stato esso a fornire i modelli umani e i valori alla borghesia paleo industriale anche se essa li mistificava li falsificava e li rendeva dal volto orrendi come è successo col fascismo in genere con tutti i poteri clerico fascisti mistificati falsificati resi orrendi a livello del potere e si restavano reali a livello del mondo dominato dal potere mondo che si era mantenuto in pratica nell'enorme maggioranza contadino e artigianale da quando tu sei nato quei modelli umani e quei valori antichi non sono più serviti al potere e perché perché è cambiato quantitativamente il modo di produzione delle cose la verità che dobbiamo dirci è questa la nuova produzione delle cose cioè il cambiamento delle cose date un insegnamento originario e profondo che io non posso comprendere anche perché non lo voglio e ciò implica una estraneità tra nei due che non è solo quella che per secoli e millenni ha diviso i padri dai figli prima di abbandonare il capitolo sul linguaggio delle cose e sono sicuro ti avrà lasciato vagamente scontento ostile magari un po scocciato voglio darti una serie di esempi che ti faranno capire un po meglio cosa ho voluto dire con questo mio esordio pedagogico misterioso se io alla tua età e anche molto tempo dopo camminavo per la periferia di una città bologna roma napoli ciò che quella periferia mi diceva in suo latino era qui abitano i poveri e la vita che vi si svolge è povera ma i poveri sono operai gli operai sono diversi da voi borghesi essi quindi vogliono un futuro diverso ma il futuro è lento a venire perciò il loro domani vissuto in questa periferia da loro e da voi contemplato assomiglia immensamente all'oggi è un oggi che si ripete i figli hanno assicurato un'esistenza simile a quella dei padri essi sono anzi destinati a ripetere e reincarnare i padri la rivoluzione alla pigrizza del sole che splende sui prati spelacchiati sulle baracche sui palazzoni scrostati tutto ciò non ferisce il passato non lacera i suoi valori e i suoi modelli l'urbanesimo è ancora contadino il mondo operaio è fisicamente contadino la sua tradizione antropologica recente non è trasgressiva il paesaggio può contenere questa nuova forma di vita bidonville casuppole palazzoni perché il suo spirito è identico a quello dei villaggi dei casolari e appunto la rivoluzione operaia ha questo spirito se invece tu ora cammini per una periferia sempre in suo latino tale periferia ti dirà qui non c'è più spirito popolare contadini e operai sono altrove anche se materialmente abitano ancora qui le bidonville grazie a dio certamente sono quasi sparite sono invece enormemente cresciuti i centri di palazzoni di un loro amalgama col mondo antico contadino non si può parlare più le immondizie sono uno spaventoso corpo estraneo i fiumiciattoli e i canali sono terrificanti il diritto dei poveri a un'esistenza migliore a una contropartita che ha finito col degradarla il futuro è imminente e apocalittico i figli sono strappati all'assomiglianza coi padri e proiettati verso un domani che pur conservando i problemi e la miseria dell'oggi non può che esserne qualitativamente del tutto diverso di rivoluzione non se ne parla nemmeno e tanto meno quanto più se ne parla freneticamente una frenesia che i figli degli operai hanno imparato in un modo umiliante dei figli dei borghesi il distacco dal passato e la mancanza di rapporto sia pur ideale e poetico col futuro sono radicali io dunque dalla realtà fisica della periferia ero educato alla certezza a un amore profondo sicuro insostituibile tu invece sei educato all'incertezza è una mancanza d'amore fatta di una falsa certezza crudele e impietosa la coscienza cristallizzata convenzionalizzata ciecamente aggressiva dei propri diritti mi sono dilungato sul linguaggio della realtà fisica di una periferia cittadina ma discorsi analoghi ti farebbero i centri delle città e le campagne i centri delle città per tutta la vita hanno sempre assicurato il tuo pedagogo di una inalterabilità della tradizione umanistica e quindi di una qualità di vita sia borghese sia popolare fondamentalmente conservatrice che la eventuale rivoluzione operaia doveva rigenerare ma non cambiare a te invece i centri storici delle città parlano di un loro problema particolare riguardante la loro conservazione fisica la loro materiale sopravvivenza dall'incompatibilità fra la loro struttura e la qualità di vita di una massa borghese e operaia consumistica nasce un caos per cui sia la parola conservazione sia la parola rivoluzione non hanno più senso alcuno quanto alla campagna la differenza fra ciò che essa ha insegnato a me e ciò che essa sta insegnando a te è ancora più enorme per me essa è stata certezza di una continuità con le origini del mondo umano e ha valorizzato fino a dar loro carattere quasi di rito ogni minimo gesto ogni parole inoltre essa rappresentava ai miei occhi lo spettacolo di un mondo perfetto per te al contrario la campagna parla di se stessa come di una spettrale e quasi paurosa sopravvivenza la sua funzione tecnicizzata industrializzata ti resta estranea a meno che tu non voglia occupartene professionalmente quanto al resto e se è un luogo esotico per atroci weekend e per non meno atroci villette da alternare con l'atroce appartamento in città tutto atroce per me si intende capirai pian piano nel corso di queste lezioni caro gennariello che malgrado l'apparenza di questi miei discorsi non sono affatto lodi del tempo passato che io in quanto presente non ho del resto mai amato sono discorsi diversi da tutto ciò che oggi da parte di un uomo della mia età si possa dire discorsi in cui conservazione e rivoluzione sono appunto parole che non hanno più senso come vedi sono dunque moderno anch'io mi accorgo tuttavia che anche questa mia pagina di esempi continua a mantenersi nel vago e nel generico perciò la prossima volta ti parlerò di un esempio concreto ti parlerò della città di bologna primo maggio 75